L'innovazione per la salute rappresenta una grande sfida per la società contemporanea, dettata dai numerosi bisogni che i cambiamenti demografici e il progressivo arretramento del welfare richiedono. Le tecnologie digitali sono ormai una realtà e offrono l'opportunità di innovare completamente l'intero settore sanitario, ponendo al centro il paziente. Da questo presupposto è nata la giornata di studio e approfondimento ospitata presso il Molecular Biotechnology Center dell'Università degli Studi di Torino, dedicata appunto al tema dell'innovazione in sanità. E-Health Ecosystem International Seminar fa parte di Ecoris 3, un progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea, Interreg, di cui la città metropolitana è partner con Spagna, Irlanda, Portogallo, Lettonia, Finlandia, Lituania e conferenza delle città dell'arco atlantico. Noi ci stiamo muovendo su due fronti. Uno sul creare delle location per le nostre micro e piccole imprese all'interno dell'università, in modo da poter ospitare sino a dieci imprese contemporaneamente che abbiano accesso diretto alla conoscenza e ai laboratori universitari. Così come l'altra progettualità che si affianca adesso e che noi portiamo come attività esperienziale è quella legata alla facilitazione dei finanziamenti per quanto concerne il trasferimento tecnologico dalle start-up innovative e dalle due università torinesi al mondo dell'impresa tradizionale. Noi faremo proprio in modo di favorire il rapporto commerciale tra la classica impresa e le start-up innovative e tra la classica impresa e l'università. Oggi c'è un particolare focus che avremo sul tema dell'ICT applicato in ambito sanitario, quindi il trasferimento tecnologico e dell'innovazione nella sanità. La sanità rappresenta gran parte della nostra spesa regionale, siamo oltre l'80%. Il grosso problema deriva proprio dalla capacità di investire inizialmente in ICT e quindi in tecnologia. Però l'importanza che si ha nell'avere un fascicolo sanitario elettronico, una cartella clinica elettronica, nel poter adoperare la telemedicina, il telemonitoraggio, la teleassistenza, chiaramente nel lungo andare si trasformano solo in un risparmio, ma anche in un miglioramento della qualità del servizio che prestiamo al cittadino. Abbiamo un gap da colmare che è veramente ampio, io parlo a livello nazionale, noi oggi spendiamo in ICT in sanità circa 20 euro a persona in confronto alla Danimarca, dove ne spendono ben 70. Per noi pensare alla salute in termini di sviluppi tecnologici e loro ricadute sul territorio è il focus delle nostre attività. Noi riteniamo che il Piemonte debba sviluppare nel suo disegno strategico la possibilità di essere un'area di riferimento internazionale per quanto riguarda le nuove tecnologie applicate ai temi della salute. In questo momento l'informatica è un po' al centro delle rivoluzioni che stanno avvenendo nel mondo, in particolare il settore AI e l'ambito salute è uno dei settori in cui l'intelligenza artificiale può essere applicata più proficuamente. Nell'ambito piemontese, come ho detto, abbiamo già un sistema ampio e ben rodato e quindi siamo abbastanza convinti che possiamo andare dalla ricerca fino alle imprese. Passando per la rete della sanità piemontese e in particolare la grossa opportunità costituita dalla costruzione di Parco della Salute a Torino.